In questo video vediamo i 5 migliori smart tv sotto i 500 euro in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo. Numero 5. Al quinto posto troviamo Sony Bravia da 32 pollici. Prova l'emozione di film e giochi in risoluzione HDR dettagliata con una varietà di formati, inclusi HDR10 e Hybrid Log Gamma. La tecnologia HDR offre un'esperienza visiva coinvolgente, catturando le delicate sfumature di colore proprio come se si guardasse la scena a occhio nudo. Il prezzo è di 370 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo Samsung da 50 pollici. Con Pure Color ti sembrerà di entrare a far parte della scena. Questa tecnologia consente al tv di esprimere una vasta gamma di colori, regalandoti immagini di qualità eccezionale e un'esperienza di visione immersiva. Guarda i tuoi contenuti preferiti come mai prima d'ora grazie al potente processore 4K di questo smart tv, che ti regala sfumature cromatiche più realistiche grazie alla sofisticata tecnologia di mappatura del colore. Il prezzo è di 500 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web in anteprima. Numero 3. Al terzo posto troviamo TCL. Android TV offre una vasta gamma di applicazioni per migliorare le prestazioni del tuo tv. Scarica le app da Google Play, compresi i giochi che puoi controllare con il telecomando. Godi dello streaming di Netflix in 4K, scopri le star di YouTube come non hai mai fatto prima, oppure esplora la libreria video di Amazon Prime. C'è un mondo di contenuti che aspetta di essere scoperto. Questo televisore TCL Cloud utilizza la tecnologia Quantum Dot per garantire un miliardo di colori e toni diversi, portando l'esperienza di visione domestica allo stesso livello della resa cinematografica. Goditi i film in un modo completamente nuovo, con una riproduzione del colore che non teme confronti e che non troverai in nessun altro modello LED o OLED. Il prezzo è di 449 euro. Numero 2. Al secondo posto troviamo iSense. Smart Vida 5 con controlli vocali Alexa e Google Assistant, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 7 contenuti tra cui Prime Video, Netflix e Rayplay. Design slim, con meno cornici e più immagini. La taglia è di 50 pollici ed il prezzo è di 500 euro. Numero 1. Al primo posto troviamo LG. Lo Smart TV LG Ultra HD offre immagini in real 4K ancora più realistiche, con colori brillanti e dettagli incredibili a una risoluzione 4 volte superiore a quella di un TV Full HD. Elimina la rumorosità nei video e crea colori e contrasti più vividi. Le immagini a bassa risoluzione sono potenziate e riprodotte con una qualità il più fedele possibile a quella del 4K. Il prezzo è di 472 euro e le dimensioni di 55 pollici. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazio per la visione.